Martedì 11 dicembre, bentrovati a questa nuova puntata di Buongiorno Regione, protagonista l'Europa o meglio i fondi europei che vengono utilizzati anche in Trentino, quanti e come vengono usati. Ne parliamo con il dottor Michele Michelini, buongiorno. Buongiorno a lei. Dirigente del Servizio Europa della provincia di Trento, diciamo subito com'è il rapporto dei trentini con i fondi europei, è un buon rapporto? Direi di sì, è un rapporto molto vivo, se pensiamo al Fondo Sociale Europeo per il quale abbiamo avuto 7.000 disoccupati che hanno beneficiato di corsi di formazione, oltre 2.000 studenti che hanno beneficiato di corsi di full immersion per inglese e tedesco, di oltre 3.600 insegnanti che hanno beneficiato anch'essi di corsi di approfondimento e di miglioramento per le lingue e pensiamo anche a 18.000 buoni di servizio per la conciliazione famiglia-lavoro che sono stati erogati dal 2014 ad oggi. E questa è solo una parte, approfondiamo più tardi con il dottor Michelini. Nella seconda parte della trasmissione andremo anche a Merano dove domenica è stata celebrata la festa ebraica di Annucca. Iniziamo però come sempre con le previsioni del tempo e allora vediamo la scheda di Meteo Trentino. Le temperature minime, Trento 0 gradi, Bolzano 3, massime previste 8 gradi a Trento, 7 a Bolzano. Sulle Alpi sono presenti flussi dai quadranti settentrionali che apportano masse di aria fresca e per lo più secca. Solo sui settori più a nord è presente nuvolosità a tratti anche fitta con episodi di deboli precipitazioni, mentre più a sud prevalgono ampie schiarite e sole, con vento in alcune valli in calo nel corso della mattinata. E adesso vediamo com'è la situazione del traffico sulle strade della regione con l'assistente capo della polstrada di Bolzano, Monica Ioris. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Situazione tranquilla, traffico regolare sull'autostrada del Brennero, strade di montagne alte e passi, il passo Giovo è chiuso dalle ore 18 alle ore 8, il passo Pennes è chiuso al traffico per motivi di sicurezza, chiusura invernale di passo dello Stelvio, passo Rombo, passo delle Erbe, raggiungibile dalla Valbadia e passo Stalle. Per la provincia di Bolzano sulla statale 12 del Brennero, all'altezza di Chiusa, tratti senso unico alternato dalle ore 7 alle ore 17 per lavori di manutenzione. Sulla statale 38, l'Amebo, in direzione Merano tra Bolzano Sud e Terlano, dalle ore 8 alle ore 17 è aperta solo una corsia per rilievi topografici. Sempre sull'Amebo, in entrambe le direzioni, tra Piano e Bolzano Sud, in Galleria, Castelfermiano, dalle ore 20 alle ore 6 è aperta solo una corsia per lavori di manutenzione. Passo Lavazzè, dalla parte del Trentino, tra il passo Lavazzè e il Bivio con la strada provinciale 215 di Pampeago, chiusura al traffico dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17 nei giorni feriali, per lavori di pulizia dopo i danni causati dal maltempo. Per la provincia di Trento, sulla statale di Loppia, Val di Ledro, in entrambe le direzioni, tra Imbocco e Valle Galleria Dom e a Monte della Galleria Agnese, senso unico alternato in orario notturno dalle 21 alle ore 5. Sulla statale 47 della Val Sugana, in località Galleria di Martegnano, chiusura della canna a direzione Padova, con uscita obbligatoria per Trento Est, l'uscita numero 10. Previo restringimento di carreggiata e limiti di velocità a 50 km orari in orario notturno dalle 21 alle ore 6. Per oggi è tutto, buona giornata linea allo studio. E noi giriamo subito la linea a Sergio Mucci dalla redazione di Bolzano per la prima edizione del telegiornale regionale. Sì, buongiorno, si stanno rinendo in questi giorni a Bolzano le commissioni che sono composte da esponenti dell'ESOP e della Lega incaricate di stilare il programma di governo che sarà la base della formazione della nuova giunta provinciale altotesina. Facciamo il punto della situazione con Monica Petrangeli. Agricoltura, ambiente e urbanistica. Il gruppo di lavoro presieduto da Massimo Bessone per la Lega e dal direttore del Bauernbund, Siegfried Rinner per l'ESOP, si è riunito per la prima volta. Su quanto discusso le bocche sono cucite. Qualche elemento concreto invece è emerso dal gruppo Formazione e Famiglia, di cui fa parte Carlo Vettori. La scuola professionale tedesca, per nostro conto, ma non solo per il nostro, ma a livello nazionale è un modello invidiato in tutta Italia. Ecco, noi pensiamo che questo modello deve essere riportato a pari merito anche sulla scuola professionale italiana. Il 15 dicembre i risultati a cui saranno giunte le commissioni, oltre alle due citate, anche quelle che si occupano di economia e mobilità e di sanità e sociale, saranno oggetto di una volata finale in un gruppo di 12 componenti incaricato di stilare il vero e proprio programma e anche di definire le linee politiche su rapporti con l'Europa, con l'Euregio e con Roma. In piazza per la difesa dei diritti umani ha 70 anni dall'approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo a Trento e a Rovereto e in altre 80 città italiane una fiaccolata contro l'odio e il razzismo. Gabriele Carletti. In piazza con le fiaccole in mano per riaccendere la speranza in un mondo in cui i diritti non vengano più calpestati. Erano 200 a Trento e poi a Rovereto, in altre 80 piazze in Italia per celebrare il settantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, a promuovere l'iniziativa Action Aid, Amnesty International, Caritas Emergency e Oxfam. Non una semplice ricorrenza hanno sottolineato l'associazione nel loro manifesto, ma la volontà di ripartire da quei principi scolpiti nel 1948 per costruire forme di convivenza più umane e contrastare anche nel nostro paese razzismo, criminalizzazione della solidarietà e odio per il diverso. Ha preso il via a Bolzano il processo a carico di un uomo accusato di violenza sessuale sulla figlia minorene della convivente. Per l'accusa gli abusi iniziarono quando la vittima aveva 12 anni e finirono tre anni più tardi quando furono scoperti per caso da una zia della bambina. La madre non si era invece mai accorta di nulla. In attesa della sentenza l'uomo ha il divieto di avvicinarsi alla ragazza. E ora le altre notizie. Preoccupazione di asso imprenditori per il meno 0,7% fatto registrare dall'export alto a tesino tra luglio e settembre. Il presidente Federico Giudice Andrea critico sulla manovra e su misure come il decreto dignità che, dice, introducono rigidità sul mercato del lavoro. Tra luglio settembre, secondo l'Istituto Provinciale di Statistica, le esportazioni sono state pari a 1 miliardo e 145 milioni di euro. Il calo è stato più sensibile per agricoltura, silvicoltura e pesca. La tragedia della discoteca nelle Marche pone questioni sulla sicurezza nei luoghi frequentati dai giovanissimi, sia dal punto di vista delle strutture che da quello dei comportamenti dei ragazzi. In Trentino è la Polizia Amministrativa a rilasciare la licenza di agibilità a tutti i locali aperti al pubblico. Dopo le verifiche su solai, impianti antincendio, dotazioni e uscite di sicurezza, viene anche stabilita la capienza. I controlli sono poi affidati alle diverse forze di polizia che li effettuano con regolarità. Resta però la necessità di tenere alta l'attenzione e fare sempre di più. Liberare l'area al di sotto di questo ponte, che si trova all'inizio della strada che da Bolzano porta a San Genesio, è il primo dei tre punti dell'intervento programmato dai tecnici dei bacini montani per una spesa complessiva di 1 milione e 200 mila euro. La zona di Gries è esposta al pericolo nel caso in cui si verifichino ancora eventi climatici estremi. Per questo, ha spiegato il sindaco Renzo Caramaschi, bisogna correre ai ripari, ripulendo tutto l'alveo del rio Fago e del rio Rivellone ed eseguendo opere di mantenimento dei massi. In Trentino si continua a ricostruire dopo i danni del maltempo di fine ottobre. Tra le attività colpite anche tanti locali pubblici e ristoranti. Ora per sostenerli è stata lanciata un'iniziativa di solidarietà, a scendere in campo proprio i ristoratori trentini, già un centinaio uniti in un gesto di solidarietà verso la categoria. Parte degli incassi o dei coperti della cena di venerdì prossimo saranno devoluti ai colleghi vittime dei danni causati dal maltempo. Un gesto di generosità dunque da parte della categoria che già si era mossa al peramatrice dopo il terremoto di due anni fa, quando vennero raccolti quasi 30 mila euro. È stata rinviata a febbraio l'udienza del processo che vede imputati con l'accusa di associazione a delinquere con finalità terroristiche il Mullah Krekar e altri cinque componenti del suo gruppo. La Norvegia, paese dove Krekar risiede e dal quale ha il divieto di allontanarsi, ha infatti concesso i documenti di viaggio necessari all'imputato per essere presente al processo a Bolzano. Ora si dovranno attendere i tempi tecnici e poi spetterà al Mullah decidere se raggiungere Bolzano o farsi interrogare in videoconferenza. Ci stiamo divertendo, c'è un sacco di gente e penso che sia il Natale più bello di tutto il 38 Adige. Queste le parole del DJ Roveretano Carolo, organizzatore dei mercatini di Natale nella città della Quercia. note musicali da discoteca invece di quelle natalizie, tale novità trova l'approvazione logicamente dei giovani, il malcontento della giunta comunale sta dividendo le opinioni dei cittadini e dei turisti. Quest'anno ha aggiunto la musica, è veramente una bella cosa che gli altri anni non c'era. Sembra un mercatino molto per giovani ma poco natalizio. Fa la musica giovane e va bene. Tre aperture diverse per i quotidiani trentini in edicola. Oggi cominciamo con l'Adige che apre con gli stipendi. Trento arranca. Sono i dati elaborati dall'osservatorio Job Pricing, l'indice dei salari dei dipendenti privati relativo al 2018. La nostra provincia è venticinquesima con poco meno di 30 mila euro. Bolzano invece è terza. Sempre dall'Adige fotonotizia dedicata al nucleo elicotteri. L'ex dirigente AVI rivuole il suo posto. Ha fatto ricorso contro la rimozione dall'incarico che era stata decisa nei mesi scorsi. Poi di spalla sempre dall'Adige l'intervista all'assessore al turismo Failoni che chiede più soldi per la promozione. Continuiamo con l'Adige che ritorna sulla vicenda dello spray al peperoncino. Campiglio nel Mirino una banda sarebbe stata pronta a colpire il concerto in quota di Bob Sinclair. E sempre dall'Adige, religione a scuola, iscrizioni in calo. Il 17,3% degli studenti trentini rinuncia. L'Istituto Buonarroti di Trento e il Martini di Mezzo Lombardo sono le scuole dove meno studenti frequentano l'ora di religione. Veniamo al Trentino che apre invece con questo scontro tra medici e provincia. Parliamo dei maxiambulatori, delle aggregazioni tra medici. Il governatore però intende andare avanti nonostante appunto le critiche. In taglio alto la risposta dell'ex assessore Olivi alla rivoluzione proposta da Spinelli. A Olivi non piace, aria di restaurazione. La fotonotizia del Trentino è per la fiaccolata in occasione dei 70 anni della dichiarazione universale dei diritti che si è tenuta sia a Trento che a Rovereto. Sempre continuando dal Trentino in taglio basso, una notizia curiosa, l'auto blu del presidente Fugatti che lascia l'Audi per l'Alfa. Sempre in leasing ma più risparmiosa. Veniamo al Corriere del Trentino che apre invece con le critiche sulla fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal primo di gennaio. Artigiani e confesercenti commentano un'ulteriore incombenza. Il ristoratore, i costi saranno notevoli. Quindi caos e critiche con il fisco digitale. La fotonotizia è sulla sicurezza nei locali pubblici dopo quanto accaduto nelle marche. Trentino discoteche a rischio e il questore ne sospende una. Il Corriere del Trentino si occupa anche del nodo indennità per le circoscrizioni. Per il portavoce dei presidenti delle circoscrizioni Armando Stefani si tratta di le indennità sono cifre miserevoli. Infine in taglio basso, sempre dal Corriere del Trentino, pendolari stipati raddoppia il treno. Si tratta della linea Trento-Bolzano. Ci sarà un nuovo convoglio. In Valsugana intanto è partito il piano di potenziamento. Veniamo infine al nostro sito, alla home page, rai.it slash TGR Trento. Ci occupiamo anche noi in apertura della fiaccolata per il rispetto dei diritti umani. Ma ci sono poi tante altre notizie come il ritorno di Laura Pirovano sulle piste da sci e ancora il contratto integrativo della meccanica del SARCA che è stato firmato, la solidarietà dei ristoratori trentini come avete visto nel nostro telegiornale e tante altre notizie. Ora linea Bolzano per i quotidiani dell'Alto Adige. La viabilità in primo piano sui quotidiani in lingua italiana. Iniziamo dal quotidiano Alto Adige. Il titolo di apertura è Via Renone, buona la prima. La nuova autostazione ha retto per adesso alla prova del traffico. Guardiamo la fotonotizia che invece riguarda la Brennercom. 20 anni di rivoluzione digitale. Lì si è tenuta una festa al Museion. Andiamo in taglio basso a proposito dei 70 anni, la ricorrenza dei 70 anni dei diritti umani in aiuto di chi fugge dalle guerre. La storia di Oliver, Oliver Mazzardo, 24 anni, volontario bolzarino che aiuta i migranti sull'isola di Lesbo. L'apertura del Corriere dell'Alto Adige riguarda, come si diceva, ancora il traffico e l'autostazione di Via Renone. Nuove fermate, il traffico regge. Stress superato, dice il sindaco Caramaschi. Scettici sconfitti. La rotatoria della stazione a quanto pare funziona. Nodo però parcheggi. Terminal bus. Momenti di confusione risolti grazie agli informatori. Pagani della Sasa dice monitoraggio costante. La fotonotizia riguarda invece la sicurezza nei locali pubblici, feste e nei locali c'è il giro di vite. Sicurezza riviste le linee guida dopo la tragedia di Corinaldo. In taglio basso si parla invece delle trattative di giunta per la formazione della giunta provinciale alto a Tesina. Scuola bilingue, il no del carroccio. Giunta all'istruzione vicina Lega e Falsporta e niente patentino invece alla maturità. Guardiamo i quotidiani in lingua tedesca, iniziando dal quotidiano Dolomiten. La politica internazionale in primo piano con la Brexit, la decisione che è stata rinviata e con il governo di Theresa May che sarebbe a rischio. Poi chi fa da sé fa per tre, dice il titolo di fianco. Una donna ha bloccato, una donna di 55 anni, Bolzanina, ha bloccato due ladri che si erano introdotte in casa sua e poi le ha consegnate alla polizia. Per quanto riguarda i quotidiani, chiudiamo con la target cycling. Si parla di politica e all'interno della Svop c'è una sorta di rivolta ad ovest, in Val Venosta. Perché? Perché nessun candidato venostano è entrato in Consiglio provinciale e ci sono difficoltà anche per quanto riguarda l'ombra del circondario. La responsabile delle donne Svop in Val Venosta ha gettato la spugna e addirittura i soci, gli associati alla Svop non pagano, i membri della Svop non pagano il contributo al partito. Chiudiamo con il nostro sito web, raggiungibile alla pagina rai.it slash tgrbolzano. Parliamo in primo piano delle trattative della giunta provinciale, al lavoro le commissioni Svop e Lega, poi il processo al Mullah Crecare che è arrivato a febbraio e il primo giorno della nuova situazione di Bolzano, poi tante altre notizie. Da Bolzano è tutto, linea adesso a Trento per gli approfondimenti. Fondi europei, istruzioni per l'uso potrebbe essere il titolo di questa puntata di Buongiorno Regione. Ne parliamo con Michele Michelini che dirige il servizio Europa della provincia di Trento. Ci sono due tipi di fondo, fondi gestiti dalla provincia e altri direttamente dalla Commissione europea. Che differenza c'è? C'è una bella differenza perché chi valuta, chi decide, chi ritiene compatibili le iniziative con i programmi relativi ai fondi, se i fondi sono la gestione diretta della Commissione è la Commissione, diversamente è la provincia autonoma di Trento. E quindi da questo punto di vista possiamo dire che c'è maggiore attenzione al territorio e soprattutto la differenza c'è minore competitività nell'accesso ai fondi. Perché mentre ai fondi riservati dalla provincia al territorio, possono accedere le imprese oppure i cittadini che riscedono sul territorio, che operano sul territorio, ai fondi, alla gestione diretta della Commissione accedono tutti i relativi soggetti competenti a cui si riferiscono i relativi fondi che popolano l'Europa. Stiamo parlando di oltre 800 milioni di persone rispetto ai nostri 500 mila. Quantifichiamo? Di quanto denaro stiamo parlando? Per quanto riguarda i fondi gestiti dalla provincia autonoma di Trento, se pensiamo al Fondo sociale europeo, al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo per l'agricoltura, complessivamente parliamo in un settennio, il 14-20 è quello attuale, di circa 500 milioni di euro, di cui circa la metà sono della Commissione, un 30-35% dello Stato e il resto li mette la provincia autonoma di Trento. Il budget della Commissione invece è un budget miliardario, ma anche lì dobbiamo tenere presente che il livello di competitività è da 1 a 1.000 rispetto a quello che abbiamo sui fondi provinciali. I trentieni sono bravi a utilizzare questi fondi? Vengono utilizzati tutti o resta dell'inutilizzato? No, no, li utilizziamo tutti, salvo situazioni particolari come quelle che si sono perificate nella precedente programmazione, ma la vedo veramente un'eccezione legata alla crisi. Pensiamo al fatto che il Fondo sociale europeo viene utilizzato ampiamente e tutto, anzi andiamo in overbooking, come si dice tecnicamente, cioè ne utilizziamo di più e quindi la provincia interviene per aumentare il budget disponibile per gli interventi. Stessa cosa per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale e anche per l'agricoltura. Il Fondo europeo di sviluppo regionale in particolare finanzia gli investimenti e anche qui ad oggi siamo ad avere impegnato e programmato spese per quasi il 100% del programma. Veniamo a degli esempi concreti, come vengono usati questi fondi? Per cosa? Magari dai privati, da una famiglia, da uno studente? A cosa servono? Per quanto riguarda il Fondo sociale europeo, come richiamavo precedentemente, abbiamo sostanzialmente due ambiti. Gli ambiti per cercare l'ambito che riguarda l'inclusione sociale e quindi gli interventi per la conciliazione famiglia-lavoro e per il recupero delle persone espulse dal mercato del lavoro, da un lato. Dall'altro invece abbiamo gli interventi a potenziamento del capitale umano per la sua internazionalizzazione e quindi sostanzialmente quello che nella precedente legislatura è stato chiamato il progetto trilinguismo, quindi il potenziamento delle competenze nella lingua inglese tedesca principalmente. Abbiamo finanziato, come dicevo prima, corsi di formazione e di full immersion per oltre 2.000 studenti, oltre 3.600 insegnanti, è una mica cosa poco, ho tenuto conto della dimensione del Trentino. I buoni di servizio per la conciliazione famiglia-lavoro sono oltre 18.000. Poi pensiamo ad esempio al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e pensiamo che abbiamo bandito risorse per le imprese per oltre 25 milioni di euro e abbiamo investimenti per ricerca e sviluppo, abbiamo finanziato progetti per consulenze tecniche e specialistiche, abbiamo finanziato bandi per l'acquisto di macchinari, attrezzature per progetti innovativi. Facciamo degli esempi concreti, per esempio sulla ricerca, dove sono andati i fondi europei? Ai fondi europei sulla ricerca abbiamo due canali, alle imprese per un avviso che è stato bandito e che sono state fatte le concessioni dell'Agenzia per gli Incentivi e quindi siamo in fase in attesa che le imprese terminino il progetto per poi rendicontare la spesa e poi abbiamo bandito un avviso per infrastrutture di ricerca che inizialmente aveva un budget di 8 milioni di euro e poi è stato praticamente raddoppiato anche di più, a cui hanno partecipato l'Università di Trento, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione MAC e anche l'azienda sanitaria per il tramite del progetto della protonterapia, perché in protonterapia ci sono tre ciclotroni, mi hanno insegnato, due servono per la cura con i protoni, evidentemente delle malattie e dei tumori, una serve per la sperimentazione. Bene, chi ha vinto? Ha vinto la fondazione Bruno Kessler e quindi lì si realizzerà una camera bianca che ha una valenza internazionale, seconda è arrivata la fondazione MAC dove ci sarà un potenziamento delle infrastrutture sulla fruitomics e terza è arrivata l'Università di Trento dove avremo il cibio che potenzierà le sue infrastrutture in materia di genetica e quindi sono anche progetti veramente di caratura internazionale che consentiranno anche alle imprese di partecipare all'utilizzo di questi macchinari tenendo conto di tutta una serie di regole non ultime quelle in materia di utilizzo che impattano anche sulle infrastrutture di ricerca. Ecco, i requisiti per accedere ai fondi sono molto severi, sono molto restrittivi? No, i requisiti no, nel senso che uno deve presentare un progetto che sia coerente con l'avviso, ovviamente se si tratta di imprese l'unica cosa che è prevista è che venga ad operare in Trentino e che gli investimenti ricadano e vengono effettuati in Trentino e che l'impatto sia in Trentino perché evidentemente questi fondi hanno un alveo e un riferimento di carattere provinciale. Per quanto riguarda le infrastrutture di ricerca anche queste devono operare in Trentino ma i requisiti sono sostanzialmente di operatività sul territorio e ovviamente di coerenza rispetto ai requisiti di partecipazione ma sono i requisiti classici per questo tipo di iniziative. Poi mi permetto anche di rappresentare che abbiamo investito molto in sicurezza, abbiamo investito con i fondi europei a sviluppo regionale sulle briglie per ridurre il rischio idrogeologico e sui ponti, sui cavalcavia per ridurre il rischio sismico perché il Trentino è diventato anche zona sismica, ogni tanto ce ne accorgiamo soprattutto nel basso del Trentino e quindi anche questo che tra l'altro è stato oggetto di una modifica del programma originario, è stato accolto dalla commissione, abbiamo una ventina di milioni che stiamo spendendo su questo, abbiamo il completamento dell'infrastrutturazione della larga banda, collegheremo tutte le scuole del territorio, quindi in poco tempo dovremmo essere in grado di collegare tutti con infrastrutture telematiche di altissimo livello. Il tempo è terminato ma ci siamo fatti un'idea, tutte le informazioni si trovano naturalmente anche sul sito della provincia. Sì, sicuramente, lancio un appello, guardate la pagina Facebook di Europe Direct, c'è un concorso molto interessante, l'impatto dei fondi europei sui 176 comuni, potete votare queste iniziative, le vincitrici saranno presentate a maggio nel corso della festa dell'Europa, 7 progetti, spero saranno molto interessanti e di gradimento. Grazie a Michele Michelini per averci raccontato i fondi europei in Trentino, noi cambiamo argomento, parliamo della festa di Annucca che è una delle principali ricorrenze annuali della religione ebraica che è stata celebrata domenica sera alla sinagoga di Merano, c'era anche la presidente delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, il servizio è di Fabio De Ponte. Accendere le luci di Annucca e particolarmente l'ottavo giorno vuole ricordare al mondo come il pluralismo debba sempre vincere sul conformismo. È un messaggio forte quello lanciato dalla comunità ebraica di Merano che ha celebrato la cerimonia della luce del Annucca, una festa di otto giorni che ricorda la lotta dei Maccabei per difendere quella che allora era l'innovativa idea del monoteismo contro il conformismo politevista greco. Temi di attualità per certi versi, di cosa vuol dire libertà religiosa e come si pratica ciascuno liberamente la propria religione e soprattutto come si convive in un territorio. E credo che proprio qui Merano, l'Alto Adige, siano realtà che danno proprio un concreto esempio di come oggi possa significare questo concetto di convivenza. Un messaggio raccolto anche dal Vescovo. È molto importante sapere e conoscere la propria identità ma che non sia un'identità chiusa ma aperta, identità e dialogo all'interno della nostra società e anche all'interno del mondo religioso. Quella di Merano è una realtà ebraica storica e proprio alla città del Passirio fa riferimento tutta la comunità dell'Alto Adige e del Trentino. Accanto alla sinagoga si trova il Museo della Storia Ebraica che attira centinaia di studenti. Facciamo un grande lavoro con le scuole. Vengono nel nostro museo a seguire i nostri percorsi didattici moltissime scuole di ogni ordine e livello sia del gruppo italiano che del gruppo linguistico tedesco. Sono seguiti in ambedue le lingue. C'è il direttore del museo e la responsabile che sono a completa disposizione di chiunque voglia visitare il nostro museo. Inoltre siamo organizzati anche per visite guidate per turisti. Molte guide vengono anche con turisti israeliani, americani, inglesi, tedeschi, francesi, inglesi, austriaci. Abbiamo gente da tutto il mondo. Per chi volesse visitarlo il museo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Ed ora un riepilogo delle ultime notizie con Sergio Mucci. Alla via in questi giorni a Bolzani i lavori delle quattro commissioni formate da esponenti della SOP della Lega incaricate a distillare il programma che sarà la base per la nuova giunta provinciale. Il 20 dicembre il testo elaborato sarà sottoposto al voto del parlamentino della SOP. Una buona notizia dal mondo del lavoro. Dopo giorni di scioperi e proteste nello stabilimento di Pietramurata ha raggiunto l'accordo sul contratto integrativo dei dipendenti della meccanica del SARCA. La Fium CGL e la Fincisla hanno firmato un'intesa che migliora le condizioni economiche per i 120 dipendenti. La nuova autostazione di Bolzano ha superato bene ieri il suo primo giorno di attività. Non tutti si orientano subito visto che diverse formate dei bus urbani sono state spostate ma per i primi giorni c'è il personale del sistema trasporti Alto Alige che dà indicazioni. Preoccupazioni di assoprenditori per lo 0,7% in meno fatto registrare dall'export Alto Tesino tra luglio e settembre. Il presidente Federico Giudice Andrea critico sulla manovra e su misure come il decreto dignità che dice introducono rigidità sul mercato del lavoro. La cronaca ha continuato a tormentare l'ex fidanzata nonostante avesse il divieto di avvicinarsi. Un diciottenne di origini marocchine è stato arrestato per stalking a Trento. Il giovane si trova ora al carcere di Spini di Gardo. L'ultimo giorno in Trentino per Aleda Guevara, pediatra e figlia del CE. Ieri l'incontro con il presidente del Consiglio Casualder. Oggi alle 9 dibattito a sociologia e poi alle 20 al Palazzo delle Alvere. Da Bolzano è tutto, Lina Trento. Sì, oggi un riepilogo del meteo. Temperature minime a 0 gradi a Trento, 3 a Bolzano. Massime sui 7-8 gradi. Ancora cielo sereno, soprattutto nella parte meridionale della provincia. Vi proponiamo alcuni appuntamenti per la giornata di oggi. A Trento, alle 17.30, alla biblioteca provinciale di Via Romagnosi, c'è la filosofa ungherese Agnes Heller. Identità e confini, il tema dell'incontro. Sempre nel pomeriggio, ma alle 16.30, visita guidata alla chiesetta di Vanezze, di nuovo aperta al pubblico dopo due anni di restauro voluto dalla Proloco. Infine, in occasione del Giorno Internazionale della Montagna, si parla di orso allassata alle 20, incontro dal titolo Paura, curiosità, fascino, l'orso, spirito dei boschi, con gli autori del libro che porta appunto lo stesso titolo. E proprio di fauna selvatica, parliamo anche domani a Buongiorno Regione, alle 7.30. Cosa è accaduto agli animali dei boschi abbattuti, schiantati dal maltempo, dal vento di fine ottobre? Ne parliamo con la direttrice dell'ufficio faunistico della provincia di Trento. Grazie per essere stati con noi e buona giornata a tutti.